ciao a tutti amici di esperienza mobile siamo in compagnia di samsung galaxy s5 e samsung galaxy s4 per un confronto allora prima di accendere vediamo un po come sono fatti posteriormente fotocamere per entrambi con il flash led sotto qua abbiamo anche il sensore per i battiti cardiaci qua abbiamo l'alto pante sistema per entrambi nella stessa posizione quindi un po scomoda quando si appoggia il telefono col dorso in giù e logo samsung intanto li accendiamo eccoci qua si è acceso un po prima il s5 lateralmente per entrambi ovviamente bianciare il volume e accensione e spegnimento blocco sblocco nella stessa posizione per quanto riguarda la parte frontale abbiamo la capsula auricolare per entrambi abbiamo il led di notifica i vari sensori qua davanti anche per le gesture tasto c'è il tasto home fisico con indietro per entrambi sulla destra abbiamo tasto di tasto multitasking che su s4 si ottiene tenendo premuto il tasto home mentre equa tasto opzioni per a me avviso un po più comodo diciamo che anche su s5 tenendo premuto il tasto multitasking si va sulle opzioni eccoci qua i due termini sono accesi ho messo lo stesso sfondo allora vedete subito le dimensioni che sono più grandi più generose sicuramente su s5 nonostante il display sia molto simile come dimensioni è soltanto un 2 mm più lungo e poco più largo però quello che fa differenza sono le connici vedete che sono molto più strette su su s4 qua in basso è un po più corta anche qua in alto e anche con i cilaterali sono un po più strette questo perché l' s5 scusate tolgo le notifiche l' s5 è impermeabile questo è anche la causa di questo sportellino qua in basso che anche un po scomodo aprire chiudo ogni volta per metterlo in carica in ogni caso dicevo è impermeabile quindi hanno adottato queste conici un po più spesse perfetto sblocchi diversi qua abbiamo lo sblocco vedete con i raggi solari qua abbiamo lo sblocco con queste belle questo bell'effetto bollicine qua l'annuncio che ci annuncio l'avviso che ci ricorda di chiudere bene la cover per impermeabilità non ho detto ancora che sul tasto home dell' s5 abbiamo il sensore per le impronte digitali che funziona bene per sbloccarlo basta strascinare il dito dal display sul tasto e devo dire che funziona io non lo uso perché non lo ritengo una cosa così utile con le batterie siamo 88% con 89 quindi vicini alla fine vedremo quale è durata di più anche se alla fine non si vede da qui effettivamente ma nell'utilizzo quotidiano vi dico subito che dura di più l' s5 scherza tecnica abbiamo un display appunto 5.1 pollici full hd super amoled contro un 5 pollici full hd super amoled processore snapdragon 801 quad core 2.5 gigahertz contro snapdragon 600 quad core 1.9 gigahertz 2 gb di ampia entrambi gpu adreno 330 contro adreno 320 e 16 gb di amoled interna per entrambi 9 e mezzo 10 su samsung s4 e 11 effettivi su s5 espandibili ovviamente entrambi batterie removibili da 2800 mAh per s5 2600 mAh per s4 fotocamere da 16 megapixel per s5 13 megapixel per s4 quindi diciamo che il processore è la vera novità molto più potente del vecchio snapdragon 600 anche con un clock nettamente più alto la ram è la stessa la gpu è migliorata ma anche su s4 gira tutto senza problemi dal punto di vista giochi e video e basta batteria un po più capiente fotocamera un po più risoluta perfetto allora vediamo l'interfacce abbiamo sui tambi a touchwitz qua abbiamo una nuova touchwitz qua abbiamo quella vecchia per intenderci andiamo sulle impostazioni vediamo anche la differenza delle impostazioni qua sono ancora divisi in quattro moduli qua invece sono tornate in modo verticale si può anche settare comunque mettere non so per esempio griglia vedete e si mette così un po confusionale secondo me visualizzazione schede e qua torna diciamo simile all s4 vedete o visualizzazione oppure elenco io preferisco ed enco andiamo su info su dispositivo e vediamo subito la versione software 4.4.2 per entrambi kitkat quindi l'ultima versione disponibile adesso a breve oppure è già uscita la 4.4.3 per i nexus ma quella prima che i vicuri passerà almeno qualche mese possibilità di aumentare due le schermate per entrambi qua le fa vedere tutte qua è scusate che tolgo qua vedete che è cambiato è tutto molto più lineare in generale anche più fluido vi dico e guardate quella fluidà adesso va molto bene su entrambi perché sto semplicemente scorrendo le home però in generale dopo un po di utilizzo quotidiano si vede che ls5 rimane più fluido anche per la animazione 2d che ho impostato perché tenendo premuto andando su impostazioni home si può settare anche l'effetto e si può avere anche lo stesso effetto che abbiamo su s4 niente per entrambi abbiamo praticamente gli stessi tolgo rapidi qua abbiamo qualcosa in più però oltre al sensore di impronte digitali il tasto e sensore posteriore non cambia poi così tanto le antenne sono allora il wifi prende bene su entrambi il 3g sono entrambi lte comunque io ho testato il 3g va benissimo entrambi ottimo la qualità in capsula ottimo gps tutto direi ottimo da questo punto di vista non ci sono miglioramenti netti direi che sono ottimi tutte e due passiamo subito alla parte comunque se avete altri dubbi sull'interfaccia volete approfondire ho fatto anche un focus sull'interfaccia vi invito a vederlo andiamo sulla fotocamera vediamo la velocità di apertura più veloce sicuramente anche più pronta subito a scattare quella dells5 le impostazioni sono pressoché le stesse cambia interfaccia le cose nuove anche vedete anche le modalità sono pressoché le stesse qua c'è qualcosa di nuovo come il tour virtuale però in generale le altre sono uguali quello che cambia questo effetto questo effetto qua che si chiama messa a fuoco selettiva che ci decide se mette a fuoco in primo piano in secondo piano in terzo con quello che è scusate l'ho detta molto papale per fare degli effetti molto carini quindi a fuoco in un punto e sfocato il resto quindi tipo un effetto delle reflex anche se non è proprio la stessa cosa perché qui comunque un effetto software mentre sulle reflex si ottiene attraverso l'obiettivo comunque va bene molto molto bello e ho fatto vedere degli esempi nella recensione e anche nel focus appunto andiamo a vedere i risultati che sono quelli che interessano alla maggior parte delle persone partiamo dalla casetta allora in questo caso sono venuti entrambi un po mosse perché le ho fatte insieme con due mani magari un po tremolante in ogni caso i colori sono migliori su sul samsung galaxy s5 la definizione anche però ripeto la 6 a 13 non cambia poi così tanto e devo dire che effettivamente la risoluzione è buona su entrambi da notare che qua in 16 megapixel le foto sono in 16 noni qua su 13 sono in 4 terzi questa è la macro vedete anche qua praticamente la risoluzione è identica e sembra addirittura non dico superiore su s4 ma in questo in questo caso mi sembra venuta meglio quella di s4 diciamo che s5 e anche in automatico fa dei bei effetti vedete ha messo a fuoco come sull s4 il fiore qua poi qua dietro vedete che è più sfocato su s5 quindi comunque s5 cerca di fare appunto questo gioco a fuoco non a fuoco e che rende immagine sicuramente più accattivante qua invece è tutto più a fuoco comunque ripeto le macro fanno esattamente la stessa maniera direi paragonabili questa foto diciamo più panoramica vediamo anche qua zoomando al massimo su entrambi direi che la risoluzione è molto molto simile quello che migliora sono i colori mi piacciono di più su s5 e anche da dire che il display è vero che è sempre un super amore però è migliorato su s5 e i bianchi sono più bianchi i neri sono su entrambi e anche gli altri colori sono un po più sparati quindi sicuramente risulta più accattivante come display quello dell s5 entrambi si possono settare nelle impostazioni anche qua sono su dinamico quindi praticamente come appena li accendete se mettete sul filmato le cose migliorano in ogni caso vedete c'è anche il display ma qua i colori sono più vivaci quindi a colpo d'occhio comunque sembra un display più bello per la fine come definizione sono paragonabili ma c'è un passo avanti anche come luminosità sull's5 questo lo vedremo anche dopo nei video fluidità in galleria diciamo che è migliorata parecchio con il kitkat su s4 ma in ogni caso è ancora migliore su è migliore su s5 definizione leggermente superiore ma a occhio veramente difficile da vedere e anche questa è una foto venuta molto molto simile ecco qua vedete i colori leggermente più accesi ma in ogni caso come definizione vi assicuro che sono molto buoni entrambi sicuramente un po' a vantaggio di s5 ma non ci sono grossi stravolgimenti ci sono stravolgimenti dal punto di vista soft, dalla velocità di scatto e da queste cose qua comunque in ogni caso durato in fotocamera indubbiamente è una mezza spanna sopra quella dell's5 comunque quella dell's4 avevo già detto l'anno scorso che era un'ottima fotocamera e devo dire che confermo per quanto riguarda la parte video andiamo su galleria andiamo su videoprova videoprova ok andiamo sul video di test siamo andrami della luminosità massima e devo dire che è più alta su s5 che si vede anche meglio al sole effettivamente in questo video invece i colori sono molto simili su alcune immagini si vede che sono molto più accesi su s5 in questo caso direi che sono molto molto simili in ogni caso si vede che i colori chiari devono essere più naturali su s5 come i bianchi sono migliori e anche questi azzurrini chiari si vede che sono più realistici anche le rocce vedete qua le rocce, le pietre vedete che sono più chiare come dovrebbero essere penso su s5 quindi è vero che sono colori più accesi ma hanno fatto un passo in avanti anche come naturalezza secondo me allo stesso tempo so che sembra strano ma dovreste vedere dal vivo per capire cosa intende forse qua è disattivato la rotazione infatti ecco vedete qua i bianchi non so se da video camera si riescono a vedere ma dal vivo nettamente più bianchi quelli di s5 come nei siamo pari assolutamente questa foto bella su entrambi praticamente anche qua alla pari ecco qua come colori vedete la pelle dei bambini che qua è un po' più naturale qua è un po' più scura quindi i colori più chiari tendono ad essere più naturali su s5 quindi anche come display diciamo che dalla scheda tecnica uno può dire che è lo stesso display ma in realtà dal vivo quello del s5 è superiore angolo di visione paragonabile assolutamente fluidità avete visto il video ottima su entrambi nonostante sia un video in full hd ma ci mancherebbe comunque l's4 rimane un top di gamma perfetto passiamo a parte musicale musica musica andiamo su andiamo qua c'è l'opzione che si blocca girando ok allora il volume in generale vi dico che è leggermente più alto su s4 però per confermarlo sentiamo un'altra canzone pompei no questa devo dire che si sente uguale quindi altoparlante diciamo paragonabile a orecchio così mi sembra più alto l's4 in prima battuta ma in realtà siamo lì e niente quindi discreto non alti c'è abbastanza alto qualità buona buona al massimo magari s4 mi ricordo che gracchiava un pochettino s5 e se la musica è tanto alta effettivamente gracchia un po' in ogni caso un altro parante discreto adesso andiamo a vedere un po' la navigazione web siamo su google su entrambi vedete anche qua i bianchi come ho detto prima nettamente più bianchi su s5 e anche la luminosità più alta andiamo su il corriere dai per cambiare il corriere della sera sperando che uscino la pubblicità mettiamo in versione desktop vedete qua non c'è la sua opzione quindi devo tenere premuto e fare vista desktop ok ce la faremo ok su s5 abbiamo finito aspettiamo s4 ho cambiato così vedete anche come girano su corriere perché ho sempre usato le verge con l's5 quindi possiamo vedere un po' come se la cava su questo sito allora vediamo l's5 vedete sito più leggero e se la cava leggermente meglio che su le verge comunque scrolling molto veloce quindi ci metto un attimino magari a renderizzare le immagini ma qua molto di meno che su siti più pesanti pinzo zoom ottimo e anche il pan direi perfetto qua cos'è sta roba adesso mi ha aperto ok andiamo allora allo scrolling attenzione migliori no identico con l's5 praticamente ricordo che è stato aggiornato da un mesetto a 4.4.2 devo dire che è migliorato anche il browser parecchio praticamente sono allo stesso livello come vedete anche pinzo zoom vedete che è praticamente identico e il pan anche quindi insomma è da dire che l'ultimo aggiornamento su s4 ha portato delle migliorie entrambi hanno sempre quei mini problemi di rendering dell'immagine che è l'unica cosa che gli manca per diventare diciamo per tornare al top come secondo me era una volta il browser di samsung poi con l's4 hanno cambiato browser ed è successo questo in ogni caso sì sicuramente il pinzo zoom e il pan sono ottimi lo scrolling è veloce però col fatto che essendo così veloce magari ripeto ci mette un po' a caricare le immagini e le scritte comunque l's4 qua diciamo che come minimo se la cavo non appare usciamo allora conclusioni parliamo dei prezzi della batteria prezzo di destino 6,99 ormai il negozio di destino diciamo 4,99 lo vedo un po' dovunque a 4,99 anche il negozio quindi ci sono già in negozio 200 euro di differenza online diciamo 5,99 per l's5 che è appena uscito e ora come ora si trova 3,50 garanzia Italia l's5 quindi anche online ci sono diciamo 250 euro di differenza indubbiamente per 250 euro se facciamo un discorso del prezzo sempre vincerà quello che costa 250 euro e meno che comunque è un top di gamma quindi se non volete spendere 600 euro ma avere comunque un Samsung top di gamma consiglio ovviamente l's4 a 350 a garanzia Italia se ovviamente siete sempre siete persone che volete sempre il top dei top non serve che ve lo dico io avete anche già comprato l's5 l'evoluzione c'è un po' in generale c'è come processore i giochi gioci gioci sono entrambi diciamo che dopo mezz'ora cominciano ad avere dei mini lag su s4 invece su s5 restano sempre belli fluidi la fluidità generale è migliore su s5 anche se è migliorata molto con KitKat su s4 abbiamo dei sensori in più abbiamo tante belle abbiamo tante taccioni nuove che forse arriva anche su s4 più avanti è impermeabile insomma ci sono dei miglioramenti indubbiamente però non vale 250 euro in più poi è anche più grande con un display comunque poco più grande quindi come ergonomia meglio l's4 cosa dire d'altronde ormai sono tutti telefoni di alto livello anche l'HTC One M8 ha poche migliorie aspetto al One M7 per dire quindi ci sta che non sia cambiato così tanto qua abbiamo delle piccole aggiunte cose che però possono essere più o meno utili dipende dalle vostre esigenze se come batteria 2800 contro 2600 effettivamente un po' di più la 2800 era onesta quella dell's4 l's5 si copre la giornata con un uso diciamo medio intenso infatti avete visto adesso qua l's4, l's5 abbiamo 85% e l's4 84% nonostante prima fossimo partiti con un punto percentuale in più su s4 ma in ogni caso se diciamo che l's5 è migliorata anche come batteria quindi avete capito un po' cosa intendo se secondo voi vale appena spendere 250 euro in più o 200 euro in più per l's5 fatelo io in ogni caso continuo a consigliare telefoni sui 350 euro quindi magari top di gamma dell'anno scorso che ormai ripeto si trovano tra i 300 o i 350 e hanno poco da invidiare ai nuovi in ogni caso per questo video è tutto ci vediamo nelle prossime recensioni se avete domande fatemi pure un saluto da Lorenzo per Esperienza Mabari ciao